Musica Pressione in calo sul Mediterraneo occidentale, sul Golfo del Leone e asse del promontorio subtropicale in spostamento verso est e il sud Italia. In Toscana, mercoledì 23 giugno, cielo sereno o poco nuvoloso, transito di qualche velatura nel pomeriggio, venti deboli occidentali sulle zone interne in regime di brezza lungo la costa, mari calmi o poco mossi, temperature massime in aumento, punte fino a 35 gradi sulle zone interne. In provincia, cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. A Lucca e sulla Piana, temperatura minima 17, massima 31 gradi. A Castelnuovo, Garfagnana e zone montane, minima 13, massima 28 gradi. A Via Regge e sul Litorale, minima 19, massima 26 gradi. Musica